Ottobre è il primo mese buono per il tartufo e con la fiera nazionale di quello bianco pregiato di Pergola, giunta quest'anno alla ventiquattresima edizione, si aprono anche le feste dedicate al tubero più prezioso, in programma nella provincia di Pesaro-Urbino, territorio storicamente evocato a questa cultura. L'appuntamento è per le domeniche del 6, 13 e 20 ottobre e con la presentazione nella sede della Confcommercio di Pesaro, il sindaco di Pergola, la neoletta Simona Guidarelli, ha svelato il programma di quest'anno, evidenziando elementi di continuità e le novità introdotte. Abbiamo confermato il format tradizionale della fiera che ormai è un appuntamento importante, classico, non solo per Pergola ma per tutta l'Alta Valle del Cesano. Abbiamo però aggiunto delle iniziative all'interno del programma generale, abbiamo aggiunto proprio un piccolo evento all'interno dell'evento più grande, in particolare il Teatro dei Golosi, con il quale porteremo a teatro, nel nostro bellissimo teatro Angel dal Fuoco, il tartufo. Lo porteremo sul palco, protagonista, insieme a dei cuochi importanti, dei cuochi stellati, degli chef stellati e dei personaggi noti a livello nazionale. Quindi questa sarà ecco la novità principale nella quale abbiniamo cultura ed enogastronomia e che ci permetterà di portare la fiera non solo al centro della città ma proprio anche in un luogo storico importante nella storia di Pergola. Tartufo bianco pregiato e i tanti prelibati prodotti locali in vetrina nella splendida cornice del centro storico pergolese ricco di storia, arte e cultura. Pergola è importante per il tartufo ma non solo, ci sono molti altri prodotti tipici, primo tra tutti ovviamente il vino, abbiamo la fortuna anche di avere proprio nel nome, ecco, il pergola doc. Quindi vino, formaggi, miele, tanti altri prodotti che si affiancheranno anche proprio in questa manifestazione 6, 13 e 20 ottobre al tartufo che ne sarà il protagonista principale. Novità di questa edizione dunque il Teatro dei Golosi con l'incontro tra cultura e cucina in tre appuntamenti artisticamente diretti dal giornalista e conduttore tv Paolo Notari al Teatro dei Golosi porti in una sorta di spettacolo chef e pop chef. Diciamo, più che direttore artistico mi sono preso l'onere di valutare dei personaggi famosi che come hai tu detto chiameremo pop chef che abbiano un'infarinatura di cucina e allora per ampliare un salotto al quale parteciperanno vari personaggi in cui si parlerà di enogastronomia, di turismo legato all'enogastronomia. Ho contattato un po' di amici che hanno aderito con grande passione perché quando parli di tartufo non è difficile convincere gli amici. La prima settimana verrà Roberto Giacobbo il quale è espertissimo di carbonara e quindi cucinerà una carbonara con il tartufo e con lui parleremo un po' di bronzi, parleremo di territorio e quanto altro, l'abbiamo chiamata i misteri del tartufo. Nella seconda settimana verrà Giancarlo Magalli il quale straripante di simpatia ci parlerà dell'ironia del tartufo e sarà un modo anche di parlare della sua lunga carriera in televisione e poi ci siamo divertiti a pensare che se il tartufo bianco arriva da questa zona, dalla zona del Pesarese, il tartufo nero arriva dal continente nero, Paraponsi, Ponsipò, e con Edoardo Vianello parleremo di Vatussi, ma Vianello sorprenderà perché farà una ricetta molto prelibata perché è un ottimo cuoco e quindi ci divertiremo a giocare con gli chef parlando di musica e con musicisti e conduttori televisivi a parlare di cucina e di tartufo. Il sipario si aprirà con lo chef Renatone, Punta Rossa Fiumicino e Roberto Giacobbo, giornalista televisivo di Voyager il 6 ottobre, poi il 13 con lo chef Alfonso della Croce e Stro Pescara in coppia con Giancarlo Magalli. Per chiudere il 20 ottobre con Fabio Pisani, chef di Aimo e Nadia di Milano e il cantante Edoardo Vianello. Ingresso libero per la mostra mercato, biglietti per lo spettacolo a teatro e per l'eventuale cena a seguire. Bella questa idea della nuova amministrazione di Pergola, bellissima l'idea poi di trasferire il salotto teatrale in una conviviale perché sarà proprio una cena tra amici. Sì, assaggeremo i prodotti cucinati e consigliati dai VIP ma poi mangeremo i prodotti di questi tre chef famosi. Quindi la cena sarà sicuramente di grande livello e sarà una cena riservata credo a un centinaio di persone con piatti di livello cucinate da chef e professionisti e con chiacchiere che continueranno a tavola con questi personaggi famosi. Il cuore dell'evento sarà ancora la piazza centrale dove verrà allestita la casa del tartufo per la vendita del diamante della terra. Poi il corso e le vie principali per l'esposizione di prodotti enogastronomici di qualità. Perché la domanda è sempre la stessa? Come sarà questa stagione del tartufo? Lo abbiamo chiesto a Rossano Isidori, uno dei commercianti di tartufo pergolesi presenti. Quest'anno il mio giudizio sarà un anno abbastanza positivo. Perché questo? Riferenti anni passati, la pioggia è stata molto scarsa negli anni precedenti, mentre quest'anno nei momenti giusti, perché il tartufo ha un suo tipo di habitat, un suo tipo di clima per crescere. Quindi è bisogno in determinati periodi di una certa quantità di acqua, una certa quantità di sole, diciamo così, no? E quindi di conseguenza quest'anno si prevede una buona raccolta del tartufo. Ovviamente non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco, perché altrimenti sarebbe un controsenso. Sulla stessa lunghezza d'onda il collega Luca Angelucci di Pergola Tartufi. Il tartufo deve diventare un lusso democratico, cioè noi amiamo definirlo come lusso democratico, perché già Plinio il Vecchio, negli antichi testi, riportava come il tubero popolare, dove veniva venduto nei mercati. Quindi no, non è necessario spendere assolutamente tanto. È chiaro che è stato impreziosito poi da tutti i passaggi napoleonici, re di Stato e quant'altro, ma è assolutamente godibile e fruibile. Infatti quest'anno ci avremo dei punti ristoro molto easy, welcome point, diciamo, dove si potrà costare dei piatti, dei stuzzichini più che dei piatti al tartufo bianco a prezzi assolutamente. Questo consente di raggiungere una popolazione più ampia e far conoscere e togliere l'idea un po' che è di nicchia e di elite, perché in un'annata come questa, come diceva prima il collega, che dovrebbe essere abbondante, chiaramente la legge dell'economia poi porta il prezzo a ribasso e quindi accessibile un po' a tutti. Conf Commercio che ribadisce così la vicinanza all'amministrazione comunale di Pergola, nell'organizzazione di questo importante evento e negli altri progetti che vedono le due realtà collaborare, dalla gestione del Museo dei Bronzi Dorati all'itinerario della bellezza. Sì, noi abbiamo un impegno con l'amministrazione di Pergola fino al 31 di dicembre, quindi indipendentemente dall'amministrazione che governa la città il nostro impegno resta inalterato. Stiamo ovviamente ragionando per gli anni futuri, il progetto itinerario della bellezza sta andando avanti anche con nuovi ingressi di nuovi comuni e abbiamo già definito diverse date nel 2020, sia per la presentazione alla BID di Milano, sia per fiere in giro per l'Italia e l'Europa. Però la fiera del tartufo nazionale di Pergola non poteva che essere un elemento trainante per l'attività promozionale di tutta l'entroterra della nostra provincia e quindi la Conf Commercio è ovviamente impegnata a valorizzare questa manifestazione. Gli eventi autunnali sono diventati straordinariamente importanti per il turismo della nostra regione, sono migliaia e migliaia di visitatori che arriveranno a Pergola così come nelle altre località, penso a Sant'Angelo in Vado, la cui fiera peraltro inizia il 12 di ottobre ed è la seconda nella nostra provincia. Anche l'Enit ci dice che i dati dei turisti stranieri che vengono in Italia sono orientati spesso dalle fiere legate all'inogastronomia, comunque legate al cibo. Il cibo e l'inogastronomia sono due elementi fondamentali per il movimento turistico. Ovviamente quindi la fiera del tartufo bianco nazionale di Pergola ha saputo in questi anni distinguersi tra le tante e credo che anche quest'anno i risultati saranno assolutamente confortanti. C'è anche un'apertura verso il territorio, verso altri comuni con iniziative, c'è anche un biglietto agevolato o a prezzi agevolati per entrare al museo, quindi proprio un lavoro sul territorio da ampio raggio. Sì, abbiamo deciso con l'amministrazione di fare un prezzo, anche qui scontato, promozionale d'ingresso al museo dei bronzi dorati, per quanto quest'anno stia andando molto bene in termini di presenze turistiche, abbiamo in alcuni casi raggiunto oltre il 50% di presenze trimestrali rispetto all'anno precedente. Però ecco ci sarà questo prezzo scontato e bene ha fatto l'amministrazione comunale a puntare anche ad una collaborazione con i comuni vicini di San Lorenzo in Campo, di Frontone, Sera Sant'Abbondio, con iniziative che si terranno in quei comuni ma che faranno da cornice agli eventi principali che si svolgeranno la domenica. Tra questi la novità di quest'anno, di queste iniziative tra il culturale e il gastronomico o il divertimento insomma che si terranno in teatro con Paolo Notari che farà da conduttore e da regista di questa nuova manifestazione. Noi in questi giorni invece continueremo la nostra attività di promozione in giro per il mondo, domenica partiremo per Parigi e poi la prossima settimana saremo alla Fiera di Rimini dove presenteremo proprio l'itinerario della bellezza su richiesta della Regione Marche.